Dopo oltre tre mesi si è tenuto su richiesta della minoranza il Consiglio Comunale a Scanzano Ionico, con all'ordine del giorno la discussione sulla crisi amministrativa che perdura da circa tre mesi. In apertura due interrogazioni della consigliera Laura Scardillo. La prima invitava il sindaco Jacobellis ad emettere una ordinanza nei confronti del Consorzio di Bonifica per rimuovere la fanchiglia depositata lungo le strade comunali e provinciali a seguito della pulizia dei canali effettuata nei giorni delle intense piogge al fine di evitare situazioni di pericolo per la viabilità e per la pubblica incolumità. La seconda denunciava la vergognosa figuraccia fatta dall'amministrazione comunale nei confronti del personale medico e delle donne di Scanzano che hanno effettuato nei giorni 26, 27 e 28 febbraio lo screening oncologico. Infatti i locali messi a disposizione per il servizio dal sindaco erano sporchi, freddi e sprovvisti di arredi, con porte e finestre che non garantivano la privacy. Una situazione da terzo mondo che ha fatto vergognare tutte le donne di essere cittadine del paese. Sulla crisi politico-amministrativa sono intervenuti con fermezza i consiglieri Sante e Pantano, Raffaello Ripoli e Massimo Lerose denunciando che il comune non può essere abbandonato alla ingovernabilità per litigi interni alla maggioranza sulle poltrone da occupare. Il sindaco in risposta ha annunciato la nuova giunta composta da Angelo Lunati, vice sindaco con delega al bilancio, Fulvio Tataranno alle attività produttive, Antonietta Clemente, Agricoltura e Verde Pubblico, Giuseppe Stasi, Lavori Pubblici e Pubblica Illuminazione. Molta ilarità tra i presenti nell'apprendere cascanzano, il verde e la pubblica illuminazione necessitano di due assessori. Una soluzione che già è in crisi vista l'assenza nei banchi della maggioranza del vice sindaco Lunati e del capogruppo Scarnato. In chiusura all'unanimità dei voti è stato approvato un ordine del giorno proposto dal consigliere Sabato Santolo sulla allarmante situazione dell'erosione della costa in località Terzo Madonna che compromette l'ambiente e le attività turistiche del posto. Scanzano è destinato ad essere un altro comune dalla situazione amministrativa molto instabile.